La risposta della Cina alle proteste anti-lockdown cambia marcia con un aumento dei pattugliamenti per le strade ed altre misure preventive. A Shanghai la polizia è stata filmata mentre controllava i cellulari delle persone alla ricerca di immagini di protesta. La repressione di Pechino ha ora dimensioni internazionali. Dopo che un giornalista della BBC è stato arrestato, un secondo reporter occidentale è stato brevemente detenuto. Il corrispondente della TV svizzera nelle immagini, interrogato dopo aver presentato questo servizio in diretta sulle manifestazioni, è stato rilasciato poco dopo. Il ministro degli esteri cinese addossa la colpa alla stampa estera. Un portavoce punta l'indice contro la BBC. Il giornalista in questione non si è identificato come tale, non presentando volontariamente le sue credenziali. Le forze dell'ordine locali stavano convincendo le persone presenti sul posto ad andarsene, coloro che si sono rifiutati di collaborare sono poi stati allontanati. Le manifestazioni si sono diffuse in tutto il paese per diverse notti. Inizialmente contro le misure di blocco, la folla ha poi anche espresso rabbia contro il governo autoritario. Per ora sicuramente il governo ricorrerà a questo tipo di dure repressioni e misure ed è inimmaginabile che cercherà di risolvere la questione facendo marcia indietro, cambiando la politica. Non è lo stile di Xi Jinping e non farà comunque l'oro del bene. La rabbia per la politica zero covid messa in atto da Pechino, che comporta un uso estensivo dei blocchi, è andata crescendo da tempo, appiccata da un incendio mortale che la gente del posto ha attribuito proprio alle restrizioni da confinamento.